E ancora inverno a Boston, ma le vittorie scaldano i cuori dei tifosi dei Boston Celtics che oggi accolgono gli Atlanta Hawks a scartamento ridotto per via di qualche infortunio. Benvenuti al TD Garden di Boston Massachusetts, situazione di classifica della Eastern Conference. Miami davanti, le altre a inseguire, i Boston Celtics però non sono più una delle altre ma la più calda in assoluto tra le sette squadre che faranno compagnia ai Miami Heat nella post-season. Flavio tranquillo, Davide Pessina al Horford troppo sottovalutato, gli Hawks che comunque sono una di quelle sette e i Celtics che però ripeto non sono più una qualsiasi di quelle sette. Decisamente no, in un grande momento, quattro vittorie consecutive, otto vinte in fila su questo campo, cercano la nona e dicevi tu Flavio, problemi di rotazione e di infortuni anche per gli Atlanta Hawks ovviamente non solo per i Celtics, Joan Petro in quintetto per l'assenza di Zaza Paciulia. Niente Zaza Paciulia, niente a Evan Johnson, soprattutto niente a DeSean Stevenson che normalmente è uno dei primi cinque e dall'altra parte in quintetto del post-rondo. 25 di gennaio, Atlanta-Georgia, 123-111, i Celtics battuti dagli Atlanta Hawks in doppio overtime nonostante un più 27 nei regolamentari e due giorni dopo la notizia davvero imprevedibile che la stagione di Rajon Rondo è terminata per un problema al legamento crociato anteriore del ginocchio mentre ESPN è un po' sfortunata e sulla palla 2 viene distrutta la postazione di Mike Tirico e di John Barry. Palleggio per Jeff Teague, primo possesso per gli Hawks che muovono bene il pallone, tiro in ritmo e avversario per Devin Harris. Buona pazienza in questo caso, la difesa di Boston cerca di essere aggressiva subito, può anche cambiare tanto ne parleremo nel corso di questa partita però Atlanta ha avuto pazienza, ha ribaltato l'alto. Brandon Best a ribaltare per Courtney Lee sul lato di Kevin Garnett in post basso contro Johan Petrou il francese lascia spazio, un po' timida la difesa del numero 10 due punti subito per Kevin Garnett i Celtics reduci dalla vittoria in rimonta 11 a 0 negli ultimi 4 minuti e 36 secondi forse l'avete seguita magari anche in diretta qui su Sky Sport contro gli Indiana Pacers blocco di Petrou si allarga Horford, tiro in ritmo del Domenicano che sbaglia rimbalzo per Courtney Lee e conduzione laterale dalla transizione da parte di Paul Pierce che ha siglato la vittoria di Indianapolis non con un tiro ma con un blocco e una difesa sull'ultima azione nonostante i problemi al collo, nonostante il 4 su 15 di quella partita tentativa di sponda di Petrou non si chiude con Horford e soprattutto un grande blocco cieco, qui vediamo la prima azione con Devin Harris che praticamente distrugge la postazione dei nostri colleghi americani vedete il... piuttosto avanti negli anni ha detto alle statistiche che per un attimo ha temuto davvero per la sua vita eh sì, ha visto arrivare questo umone umone come diceva Bois Atanievic, deviazione da parte di Courtney Lee di 8 secondi a disposizione degli Hawks per chiudere questa azione d'attacco Atalanta con un record tutto sommato soddisfacente 34 vinta, 26 persa, avete visto quinta a Est però una squadra decisamente in divenire, forse eternamente in divenire almeno da qualche tempo a questa parte questa è una delle poche certezze per il futuro si chiama Jeff Teague, 27-11 assist per lui nell'ultima vittoria contro i Sixers e sta giocando molto bene, soprattutto nel mese di febbraio di più di 18 punti, più di 9 assist sarà restrito il free agent alla fine della stagione una delle tante decisioni che dovrà prendere dovrà prendere il management degli Hawks ovvero sia Danny Ferri, soprattutto vecchio avversario di Davide Pessina sui campi italiani io penso che quella di Jeff Teague per Danny sia una delle più facili in assoluto ovvero sia questo giocatore da tenere almeno orientativamente poi però ogni decisione non è singola non è quanto a Danny Ferri piaccia a Jeff Teague ma molte altre situazioni dalla 4 alla 7, Brooklyn Atalanta Chicago e Boston come vedete la distanza è una partita e mezza le cose possono cambiare molto rapidamente uscita per Devin Harris questa è una partita decisamente fondamentale per Boston vincere significherebbe raccogliere il quattordicesimo successo a fronte di sole quattro sconfitte da quel 25 gennaio quando ad Atalanta si è infortunato Rondo passo di croce di Garnett che riapre per Paul Pierce grandissima azione ancora una volta sull'asse immarcescibile KGPP davvero immarcescibili condizioni fisiche ottime nonostante Paul Pierce abbia problemi al collo però riescono comunque a giocare una pallacanesto credibile e soprattutto riescono a essere utili in tanti parti del gioco poi questo difensivamente è forse il numero uno della Lega si mangia letteralmente il palleggio un po' troppo disinvolto di Jeff Teague Every Bradley al ferro con l'appoggio va a bloccare Petro attacca Teague che però altrimenti è un po' scosso da quello che è successo buon lavoro difensivo di Brandon Bass grande rotazione di Garnett Horford mette nell'angolo c'è Smith fuori dalla linea il tiro da tre punti riceve da Petro prende il tiro in ritmo senza esitare questa volta il tiro da lontano di Josh Smith croce e delizia degli Hawks delle ultime stagioni da tre punti ad Atlanta è arrivata la nuova azione con pazienza Boston vuole essere molto aggressiva ti costringe a lavorare molto però se riesci a aprire il campo e ribaltarlo un buon tiro lo trovi lo scarico per Courtney Lee che tocca ma non riesce a controllare palla persa per i Boston Celtics è una costante della formazione di Doc Rivers per il settore per il settore Grazie.